Diciamo che l'anno scorso non ho proprio iniziato perché il ritiro l'ho saltato completamente, quindi è ovvio che quest'anno con un ritiro alle spalle ci sono i presupposti per essere in condizione in tempi più brevi. L'anno scorso ho iniziato ad agosto, poi subito con le partite, le amichevoli, quindi è stato più complicato, soprattutto all'inizio me ne sono accorto e ce ne siamo accorti perché anche i risultati collettivi sono venuti a mancare, speriamo quest'anno iniziare in un altro modo. Dobbiamo avere la testa sgombra e ripartire senza quei pensieri perché comunque fanno parte del passato e fanno parte della scorsa stagione, ripartiamo con il giusto entusiasmo, poi è giusto che ci sono anche i nuovi che portano e creano entusiasmo perché ovviamente portano cose nuove, però noi vecchi, tra virgolette, dobbiamo avere la testa libera e pensare solo a iniziare bene il campionato e non pensare più a quello che è stato. Il mister vuole che le mezzali siano molto offensive, quindi questo gioca a mio favore perché è chiaro che rispetto alla passata stagione in cui giocavamo a quattro ho più libertà di inserirmi e quindi di favorire le mie caratteristiche. Sì, diciamo che sia per me che per De Grazia, come si è visto, diciamo che abbiamo libertà di attaccare con ovviamente il dovere di rientrare e di difendere anche, però questa libertà sicuramente ci fa bene e mi fa bene anche a me. Quindi abbiamo cambiato, prendo il 10. Ma perché, insomma, abbiamo visto un po' la situazione, c'era Tulli che poteva prenderlo, prendeva l'11, allora ho preso la palla al balzo e ho detto di, insomma, l'avrei preso io. Hai chiesto tu? Sì, sì, no, vabbè, si decide tutti insieme, però nessun altro si è proposto, quindi è andata bene così. Sì, sì.